... Non sembra lo scenario di una tipica avventura del commissario Maigret? Anche qui c'è un mistero da scoprire. È difficile indovinare dove siamo. Luigi XIV fra i suoi generali. Non avete ancora capito dove siamo? Non vi dice nulla lo splendore di questo arazzo? Venite con me. Siamo nella sala della Hotelis del Museo dei Goblin. Mi sono fatta spiegare la tecnica della razza. Mi sono resa subito conto che deve essere un lavoro facilissimo per chi lo sa fare. Avete capito? Niente di tutto. Mi preferisco lasciarvi lavorare, è meglio. Un arazzo su un disegno di Picasso. Una tradizione antica rinnovata dall'arte moderna. In questo laboratorio si lavora ancora con gli antichi telai del 1600. E la vecchia tintoria dei Goblin fondata da due arazzieri fiamenghi chiamati a Parigi da Enrico IV per dar vita a quella che sarebbe diventata la Manufacture Royale des Goblins. Questa donna è Capiussin, una delle attrici più eleganti di oggi. Vogliamo scoprire il segreto di questa sua eleganza sobria e raffinata. Questa donna sceglie Cori. Questa donna veste Cori. Cori, l'eleganza sulle ali di una farfalla. Cori, l'eleganza sulle.